Forza Nubbe da 1 euro contro Forza Nubbe da 9 milioni di euro Circa Ragazzi vi do il benvenuto su Mega Nubbe Simulator E' un bellissimo gioco dove noi saremo E' un nubbe di Roblox Dove prima saremo Così C'è i fingerlini Siamo un palo della luce Per poi diventare Così Eeeh Pasqua Ci si è andato troppo in palestra Questa estate E nulla a quanto pare c'è stato pure un aggiornamento Che include i laser C'è Un Noob Super ultra mega Forzuto Per fare raggi laser dagli occhi Ok vediamolo Però ragazzi Se vi iscrivete al canale Attivate la campanellina Diventerete De mega Nubbe Fortissimi Mega Nubbe Simulator Guardate Ma sono ultra mega Pompato Cioè dove siete andati in palestra Che ci vado anch'io Che sono Che cos'è Insomma Non voglio essere buttato Nel secco Per me riesco Nell'umido Quindi giochiamo Mega Noob Simulator Devo Killare i beccol Per diventare più forte E prendere monete Ok Ma sono Ma sono uno schifo Guardate Sono piatto Ma dai Beh effettivamente Questo sono io Ma quello è Raulk Ragazzi Benvenuti Su Mega Nubbe Simulator E guardate C'è qualcuno Che ha la super mega Nubbe Forza Perché esiste Una forza Nubbe Più potente La mega super nubbe Forza Io sono un nubbe normale Cioè Un nubbe normale È già nappo di su Un nubbe potente È nubbe Un nubbe al quadrato È nappo in tutto È sparito Ha pure il potere Di sparire Ho spiegato ovunque Che schifo Cioè che è nubbato Dai Ok Dove sono i bacon Dove sono Eccolo i bacon Vai Prendelo A sfrangate Su quei bacon Che si ritrova In testa Su quelle peppe Che si ritrova in testa Ehm Ho fatto diventare Mega noob bacon Pazzo No Mega bacon Arrabbiato Purtroppo Abbiamo fatto Un po' di uova E pancetta La mattina Per questo Arrabbiato Abbiamo pancettato Un suo pancettone Ora posso comprare Gli upgrade I power ups E i peps Anche gli animali Cioè ma io ti immagino Uno così forzuto Grosso enorme E poi un animale Almeno come un animale Voglio un drago Guardate Voglio un drago Sputa fuoco E sono contento Ecco Posso anche cambiare La mia testa Di noob Per esempio Questo qua In testa C'ha Un razzo Che gli brucia i capelli Che infatti non ha Perché sono bruciato Allora Andiamo a comprare Gli upgrade Voglio vedere Che cosa posso comprare Se io do ovviamente I coins Forza Perché quanto per Ciao Martepanda Sei un noob Come me Vero Yeah Yeah Ma che cosa Stavo al punto Delle chiappe Un buco vero Ok posso comprare Un po' di pesi Eh posso comprare La pesistica Si compra Molti più pesi Posso vedere Power up Oh laser eye 75.000 Magari Pets Dov'è il pinguino Dov'è il pinguino Nappo Eh ragazzi Devo andare a Prendere tutti i bacon Possibili Andare a Contro tutte le pancette Devo diventare Un mega noob Mi vedo Non è vista Adesso De ricevere un colpo Di me Mamma mia quanto tolgo Ragazzi tolgo tantissimo Mi danno un sacco Di power up Questi Guarda ce li devo saltare Sì Schiaccio di chiappe Ok ci ho provato Schiaccio di chiappe Non ce l'ho fatta Ancora devo allenarmi Glutei Mi aiuterà Peppa Mi aiuterà Peppa Mi alleni le cosciotte Grazie Devo avere 25 di forza Per il nuovo Per la nuova zona E quindi vai Contro tutti i noob Vai Della peco 25 di forza Con tutti i pugni che do Vai Siamo a 10 Mi sono trasformato Mi sto 10 con bacon Noob Normale Ma come Comunque stavo notando Che questa mappa enorme E ogni zona Ha dei differenti portali Per esempio Questo è normale bacon Ok Quello è un bacon Un po' più bacon Quello è un bacon Ma c'ha i muscoli Questo conta Ragazzi Ciao Lore Sei fantastico Grazie ragazzi Matte Matte Sei diventato pure tu Un nappo Yeah La banda dei nabbi natali Entriamo Vediamo che succede Nulla è succedente Voglio essere più forte Basta Ho deciso Mi prendo gli steroidi O per i robux Vai diventa forte Più 750 Fammi vedere la potenza Mamma mia Quanto son grosso Son grossissimo Adesso io do uno schiaffo A questi noob Mamma mia Non li tolgo così assai Questi noob Dannati noob Dovete diventare piccoli Ora posso Aumentare pure l'upgrade Finalmente vai Tutti gli schiaffi Tutti gli schiaffi 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 tutti E' una pizza Qui una pizza là E' una pizza Qui una pizza là Dove scappi dalla mamma Ah Posso utilizzare Ma io posso Gendare avanti C'è 200 di forza C'è io stavo Bigger noob E' la Sia come questa Sky Valley 650 di forza Dove? Ah là sopra Ecco là sopra Ho rafforzato le gambe Guardate che cosce Guardate Lì sono a 650 di forza Arrivo Grandi nappi No 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 Non è giusto Non sono ancora soddisfatto Ok che questa è l'isola Dei grandi noob Però Ho bisogno di più potenza Devo arrivare a 3500 Quindi sai che ti dico Lo faccio Cioè proprio Lo faccio Così Così 5000 Quasi mega noob Ma mega noob E poi quant'è tra l'altro Eh ma sono grosso Ma sono enorme Ma cos'è Ma che potenza è Scusa Portale Mi fai un baffo Adesso ti sorpasso Ragazzi posso fare qualche potenza Tipo qualche smash No però tolgo poco Non è giusto No 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 È impossibile Toggo troppo poco Dobbiamo ritornare All'isola principale Dove entrare la mia forza E quindi Devo arrivare qua Devo arrivare al massimo qua Molta più forza Cioè ragazzi Quanta forza sto acquistando 10 11 Quanti soldi Ormai lo finisco Completo tutto Sono fortissimo Vabbè aspetta Fammi rispondiare un attimo Basta Basta così Guarda che muscoli Cioè Quando vado in spiaggia La gente mi guarda Mi osserva Dal passo verso l'alto Lorenzo Sei un gigante Eh sì Ragazzi Guardate Sono un mega nappo Allora Adesso vado contro altri giocatori D'accordo ragazzi Ci si state Vado contro altri Ma è un'arena Il prossimo sono io Ria Lorenzo No Poverino Poverino No No Ti prego Non più picchiare Sei così piccolo Mi viene voglia Di coccolarti Attacco di chiappe Porca miseria Grazie 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 Ciao Ma non c'era Non c'era bisogno Non c'era bisogno Cazzi Ok Sto andando nel vulcano Dove c'era prima Bacon E posso andare Contro quel mega Mamma mia Guardate Ma ce la posso mai fare Arrivare là sopra Ci proviamo Sono entrato dentro una grotta Che sta succedendo Oddio Ma che ridi Ma perché vuoi andare contro di me Non ci voglio credere Ma che c'entra Ma cosa sto giocando Ma dai Ma se Ma ti fai schiacciare Aia fa male Aia fa male Vieni qua Aiauto Sono stato battuto Da un anerottolo Da uno che non ha le febbre muscolari E lui ascolta Fabri Fibra Anch'io ho bisogno di più fibre muscolari Devo ascoltare più Fabri Fibra Sono stato battuto Da un anerottolo Ma come faccio Ci risiamo La resta dei conti Ora devo capire il perché Noop noop Non come Pingu Noop 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 Scappa 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 Oddio Ha un laser No Mi ha sparato un laser Nelle chiappe Aspetta Io non te lo do più il laser No Ma porca mannaggia Ma ma Non sono abbastanza Noop Per battere Quell'altro Bacon Stavolta ci siamo Stavolta è la resta dei conti Signor Bacon Sì sì Parliamo Parliamo E vai E vai Sì vabbè Mi fa il ballo del perdente Il perdente è vero Sei tu con quella Pistoletta Ok ragazzi Stiamo molto attenti Dobbiamo stare attenti A quello là Perché Ci potrebbe Ci potrebbe sparare Da un momento All'altro Infatti Ok Ok Vai attacca Vi allontanati Allontanati Aia 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 Ma come fa qualcosa A farmi così male Aia Ancora male Ancora più male Scappa 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 Saltando Scappa Scappa Nooo Mi ricordo Una scena Bruttissima Non ci voglio creare Come Si è arrabbiato Si è arrabbiato No Ancora più Matto Di prima E quindi Che succede Va bene Ok ragazzi Io direi che Questo video Su mega Non ve lo posso Anche concludere Qua Spero tantissimo Che vi sia piaciuto E nulla Iscrivetevi al canale Se l'avete ancora fatto C'è un sacco di pollice In su E noi ci vediamo Ad un prossimo video E Ciao 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 Grazie a tutti.